Ciao ragazzi! D'ora! Riuscite a vedere la porta gialla? È dietro la porta gialla, girati! Dove ragazzi? Non la vedo! Dove sta la porta gialla? È dietro! Oh ma ci senti? Girati! È dietro la porta! Non ho capito bene, dove sta la porta gialla? È dietro! Dietro di me? Sì, sì, girati! È dietro, è dietro! Dietro di me c'è il coccodrillo verde! Dove sta la porta gialla? Aaaaaah!